punto allora ci smutiamo e che ne pensate che ne pensate poi manca una finestra l'aggiungo io guarda tac e tac guarda che bellini che siamo mi smuto buonasera a lei a lei mutare le due webcam su non è vero aspetta che arriva l'altra ora Fabri allora esco con questa vi attendo ah amici buonasera grazie a Gatto per il ride grazie mille a Gatto per il ride spero sia andata bene la conferenza Apple di cui io capisco tutto naturalmente anzi dovevo essere io presente proprio perché dovrei mettere il mio nome scusami non lasciamo stare sai che siamo tutti rotti siete molto mancati anche tu Vector anche se siamo qua che paura stasera facciamo Ant ho appena scaricato TikTok per domani che c'è per dopodomani dopo domani ci sarà un chico io credo io ce l'ho già scaricato nel dubbio mercoledì pomeriggio mi raccomando amici mercoledì pomeriggio facciamo la live per i sub su Take Down ve l'avevamo promesso la facciamo va buono? va buono? io inizio a doppiare il gioco perché mi ci mette quella mezz'oretta poi vedete che clicco anche io va non si sa mai che fa gli scherzi io c'ho sempre quel come andata Gatto? quella pazzia ogni tanto non devo cambiare il cellulare adesso devo cambiarlo di prendere l'iPhone no io ho proprio guardato no c'è quello lì che è uscito che costa un pochino meno che non mi ricordo come si chiama che non mi sembrava male ma io Apple di solito Apple io non l'ho mai presa per questioni di prezzo si è quello che non la prendi perché i prodotti sono buoni anche perché io di telefoni basta che mi funzioni mi faccia girare le robe non è che mi frega molto ho mai stato appassionato non mi frega nulla buonasera io ho giocato a The Last of Us per un paio di due ore e mezza io ho quattro ore oggi e sono comunque ancora indietro mi sono messo anche a guardare cose altrimenti l'avrei fatto tranquillamente mi ricordo chi si chiamava mi pare che costi sui 500 euro no amici mi pare che fosse la 6 allora se fa veloce forse arriva dopo Moro altrimenti niente buonasera buonasera io tra l'altro ho fatto il prestigio l'ultima volta quindi adesso faccio caccare ah i prestigiato i prestigiacomo no sono neanche a metà non sono già spostato no penso duri allora su All On To Beat c'è scritto che dura sulle 20 ore ho visto io sono al capitolo 4 su 10 io ho fatto 13 ore di gioco quindi io ho anche meno io ne ho fatte 5 e mezzo quindi sto esplorando veramente qualunque cosa qualunque angolo possibile nella mappa la sto guardando ma Gian Gianni sono contento anch'io guarda che palle mi sei bagato la chat di Twitch sul cellulare vedo tutti i messaggi doppi no che fastidio prevoce su The Last of Us però non è un capolavoro allucinante no è è allucinante cioè tutti dicevano no i 9.7 9.8 che gli è andato sono tutti al pumpatissimo no sono giustificati allora adesso io voglio prima di dirlo in maniera totale voglio finire il gioco per adesso adesso si io sono a bocca aperta ogni ogni minuto che gioco Frank grazie mille Frank tra l'altro amici come ho fatto a vedere anche tu Instagram che l'hanno aspettato sono i rovere che mi hanno regalato il loro fumettino guardate che tranquillato no ma quella felice va bene ho sfogliato anche prima c'è un disegno molto particolare a quella così quella che sorride fa il sorrisino che sembra un assassino che ti sorride ma in realtà ti uccide che sembra che ti sta prendo per il culo eh sì tra l'altro guardate sono orribili ecco poi la C-Max la C-Max roster voglio farvi salutare da Frank se lo trovo questo mio è Frank ma io tengo sto cacciatore qua ciao amici sono Frank guardate ho anche il bravo ciao sono Frank e sono un membro di Space Valley ho i capelli lunghi perché è impazzito eeeh io ci sono no tengo il William William il silenziatore domani mattina facciamo sotto hanno fatto un bel po' di novità lo facciamo sotto domani mattina ci sono finalmente la selezione delle musiche degli strumenti che è quella una cosa innovativa incredibile invitaci poi Lezzaro appena fai tu che è tanto io sono Ellie tra ma è di musica ti presento Sally ho visto adesso ma io sto giocando a smite ancora si gioca ancora ma io sai che ho fatto una partita con il j force now ah si così non sono stato a riscaricarlo e mi diverte sempre a me ma ogni tanto si effettivamente il personaggio col fucile silenziato no aspettate grazie mille white non ho l'antidoto no grazie a fight non quello che abbiamo fatto prima non ce l'ho ancora questo fatto ma l'antidoto non c'è vero no io ce l'ho perché ce l'avevo il mio personaggio quindi no dico quando fai il prestigio l'antidoto come lo riprendi e non lo so perché non l'ho ancora sblocato adesso e devi usare la roba col veleno non c'è e ma non c'è c'è bomba e devi sbloccare credo che prima con quelle incendiarie sblocchi il resto ah ok quindi le incendiarie devi sbloccare la velenata e poi dalla velenata e fai gli armi eh sì di passaggio io sono già 49 del primo prestigio che poi scusami basta tirarle mi pare non devi farle sì basta non devi colpire nessuno basta che la usi allora la useremo un po' vediamo dopo sì è vero Corvo è un po' Joel io sono Ellie da vecchia perché? eh più io invece sono sì è più Hugh Jackman quello lì sempre veramente sempre Hugh Jackman in Logan però se serve Cerco ma no tranquilli amici tranquilli Bluebeer grazie mille anche Gergon Gergon fa 50 mesi ragazzi madonna quanti Gergon è uno dei top Gergon ovviamente Vector stai attento eventuali cose strane eh si pronto col col kick questo tizio un po' strano guardalo 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 che strano sempre quella dei pistons di di 6.000 anni fa grazie a Dasher ma che gentili che siete grazie anche a Jacks e anche a Jacks grazie mille happy birthday 3 years old grazie mille per i 36 mesi abbiamo visto tra l'altro così rispondiamo già alle eventuali domande abbiamo visto anche di Crash l'abbiamo accennato anche stamattina io sono contento perché sono un fan della saga è a me Crash è stato forse il primo gioco che ho avuto sulla Playstation 1 io Crash sono veramente tanto affezionato quindi lo prenderò sicuramente al lancio e ci farò probabilmente il day one a sto punto o io moro comunque faremo il day one star wars sarà esclusiva a play 4 no i Jacks xbox ho visto non lo so anche su pc non lo so il day one lo faremo sicuramente o comunque faremo una botte via è che ci sono due day one è quello il fatto perché c'è anche il gioco di star wars e adesso vedremo poi come organizzare possiamo fare anche la mattina e sera beh star wars te lo lascio a te perché non mi ricordo che giorno sia il 2 ottobre se è un giovedì lo faccio nella mia live sicuramente però Crash costa 70 euro è comunque ma l'hanno già detto il prezzo perché io non l'ho visto ufficiale poi magari me lo son perso io mk demko 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 demk0 venardi 2 ottobre ah venardi peccato preordine a 69 99 ma è ufficiale o una cifra di amazon eh sì 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 peccato che è venardi cattoni che ho tirato aspettate un attimo amici dove cacchio stiamo andando dritto dritto giusto c'è solo uno tanto quindi già se lo sto ps4 è un gioco nuovo ci può stare che costi poi bisogna vedere perché sono 5 ore di gioco mi tirerebbe a me per quanto son fan e tutto poste poste credo che tu non ci guardi da mesi proprio tutta la line non solo ice mi sa di sì caro mi sa proprio che non ci vedi da un sacco la testa ma un sacco proprio intendo di 5 ore di gioco ho il vecchio con la che fa schifo è buono perché hai ecco mannaggia l'esplosiva amici piccchiatelo vieni qua lì e zarvini verso di me non gli sparate aia qualcuno ha peccato me a questa che bolla segue ha sparato a sinistra occhio c'è una vecchia davanti occhio ancora ma porca miseria lo fucile di pongo io vediamo il mirino non riesco per la testa questo continua da spararle quindi dire di no io lo vedo bene questo mirino servibile dove è l'indizio si vai sono munizioni per caso aiuto mi tira devo abbassare quella grafica mi sta tirando degli scatti pazzeschi non è che stavi un po' la ghicchiando eh anche perché prima mi ha detto perdita di pacchetti il fucile è terribile è veramente brutto cioè più che altro è scomodo per per il mirino perché devo dire avere un mirino rettangolante no non era c per abbassarsi no control no che è nick gitt grazie nick è control ma io mi ricordavo c vabbè nick grazie mille grazie nick non era c per abbassarsi sempre stato control credo ok forse l'avevo messo io su c può essere mi sto mandando che non ho visto di là mi sa che l'avevo messo io su c dovrò cambiare a sto punto fastidio contro liscio su c c'era qualcos'altro da lei che su c c'era qualcosa è questo non so cosa c'era su c lo sta sparano e li sento a sinistra e c'è anche quello di fuoco qua in giro ma io voglio prendere munizioni la lanterna boss è qua boss è qua boss è qua boss è qua è lì questa che sparano vogliamo andare grazie fanu mi parete la pubblicità che paura dove era dietro ma sei sicuro che arrivano da lì gli spazi mi la fanno non sono sicuro che arrivano gli spari da qua ma che il boss è qui ok e allora arriveranno a darci fastidio ragazzi occhio no aspetta forse non è qua l'arma del pico no no non è qui il boss però era qua vicino quindi è perché c'è là dentro si è là dentro sono un po' confuso attenti all'uomo di fuego dov'è è qua eh vi ho visti venga venga non riesce a sapere il gradino ti asti allora prego ma chi sono io che paura che paura grazie per i cinque ponamenti caro grazie mille ma io devo no ragazzi io devo cambiare i comandi cambia i comandi facciamo così mi proteggete un attimo eh io ti voto il macellaio gente c'è gente non è vero bianco non è bianco bianco ho visto era qui dov'è lo sento di qua occhio anche a quelli che arrivano dietro colpito ho tirato una martellata ma lui di più è stia brucia 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 via via ma qua da fuoco tutto ma il melee è fetto con sto qua la voglia il melee in teoria è quello che fa più danno non l'ho preso sei andato a fuoco per me ma hai sparato tu Liezzar no ragazzi questa porta io la prenderei stanno sparando a me vabbè va fuori ha tirato una dinamite li ho sgamati ahia quello di fuoco quello di fuoco attento non andare lì nel fuoco ah uno l'ho ucciso e uno mi ha ucciso a me bussa chi sarà mai andiamo a vedere grazie 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 mille grazie mille grazie mille amici perdonateci mi hanno dato fuoco non ce la farò mai figurati no sto abbruciando direi che abbiamo preso a occhio così questo fucile di gomma io credo di essere crashato perché vedo il vostro correre sul posto quindi noi vediamo te ferma sul posto sì direi che abbiamo perso amici così a occhio vedendo questa immagine verificante è morto durissimo e niente vabbè dai torniamo al menu vabbè ma prima di riscaldamento ma poi cost'arma io non posso andare in giro con l'arma di gomma dai l'immagine è terrificante allora grazie a frankie che tra l'altro ha regalato la sub a jordan e grazie mille ancora a federico scusate se eravamo un attimo incasinati stavamo facendo le rom comunque appunto The Last of Us per adesso un capolavoro io non ho niente da dirgli dispiace veramente non poterlo giocare a 60 frame fissi perché un capolavoro sarebbe proprio da guardarti costantemente attorno bello fluido sperando che nella presa di 5 giri il personal frame è veramente un capolavoro allora mi raccomando ricordatevi che c'è il giveaway attivo come dice Vector partecipate tutti mi raccomando fino a fine mese quindi vuoi dire ancora la prossima settimana una settimana esattamente una settimana ancora per partecipare tanto ricordatevi salvatevi la pagina perché più o meno una volta al mese c'è il giveaway quindi tenetevela lì sempre pronta una volta ogni due top perché tanto che dura un mese sì però all'inizio del mese dopo già ultimamente ce li stanno facendo fare tutti i mesi l'altro era finito a fine maggio quindi questi 5 dobbiamo di giocarlo grazie mille ponzi grazie a ponzi il diciassettesimo mese grazie mille porbo deve rientrare vero no domani mattina facciamo non sono in gruppo quindi si bussa chi sarà mai io non posso grazie a ragioniere nuova salida ragioniere ben arrivato domani mattina invece facciamo sea of thieves e domani pomeriggio faccio house flipper domani pomeriggio facciamo house flipper chiacchieriamo insomma come al solito aspetta lascia un attimo alto rilassando non mi invito tutti stiamo veramente rilassando su house flipper domani sera fifa sì domani sera il signor gaudenzio grazie al signor gaudenzio siete veramente wow quasi alla fine del livello 5 siete quasi alla fine del livello 5 per davvero non mi sta arrivando l'invito ciao avevamo avvisati sarebbe stato alle 21 che c'era la conferenza io ho rinviziato di no ci siamo scambiati con gatto perché ci teneva a fare giustamente la conferenza apple si partner sinistra a me prende le persone a gino io sono adesso sono io Hugh Jackman grazie missile grazie missile 90% grazie missile 24 secondi come Kobe io voglio vedere ragazzi è tornato il fanta calcio noi siamo veramente ecco espulsione caseres chi c'era caseres io nell'altro fanta ma io non sapevo neanche di averlo non l'ho sistemata la formazione dell'altro fanta mi sono scordato ragazzi a me non è arrivato nulla amici abbiamo tenuto il colletto di riberino grazie farsi tanto ci ha incontro io te il dirola è entrato per prendere 5 e mezzo mi fa piacere dai le formazioni ufficiali di bologna juventus ho visto che il milan ha paneggiato poi ha segnato altri due gol 4 a 1 ha vinto ah un altro ancora l'ha fatto ah vedi fardi che ci ha regalato un emotico del pride amici mi raccomando se fate fino a 300 bits di donazione donate le sub sbloccate le emoti fate la sub fate la sub non mi ricordo se era solo su donazione mi pare di non so se invia ringraziamenti grazie fardi attenzione nella juve gioca Bernardeschi morpidone amici mi raccomando da 300 bits in su se non se volete quelle del pride se volete quelle del pride se volete fare una donazione così hai fatto bene sì le motivazioni del pride sono carine quelle del light train sono sempre una merda ma quelle sono da sempre beh non è vero no beh Robby l'aveva fatta Robby l'aveva fatta quelle belle sì no quelle del pride sono belle anche quelle di adesso quelle del pride no quelle del light train farò scherzo ah sì sì quelle del light train il carino Mark è tutto contento grazie spero mi arrivi l'altro mezzo cuore eh sì se no sai dare la mano amici domani con House Flipper ci rilassiamo come al solito chiacchieriamo non mancate non mancate in generale anche la mattina anche la sera del pride sono molto bella Arcadia mie emozioni una bella della pittoria ma ce l'ho accoppiata ma c'è qualcuno che ha la parte destra del cuore perché sono tutti una parte no sì ho visto qualcuno e l'aveva tutte due eccolo ah vedi eccolo lì vedi Marco domani torna il momento del riepilogo Fanta Carlo e sono molto contento ma domani mi sa che non facciamo in tempo no perché finisce mercoledì eh sì perché adesso fate conto che avremo partite ogni due o tre giorni quindi sarà difficile fare un riepilogo della settimana perché poi la prossima è weekend quindi finisce domenica quindi martedì puoi fare il recupero e poi già inizia un'altra eh vedi ci saranno martedì in cui vedrete come è andata e giorni in cui non la vedrete purtroppo mi spianza non dipende da me allora dobbiamo andare allora sono 15 molto sopra ma sono in attesa degli altri giocatori tutto nero morbidone che dona 300 bits e regalo grazie morbidone grazie mille sei molto gentile aspettate un secondo insomma un sogno è diventato realtà e pensa l'ambiente 31 luglio si sono molto risato anche per quello ma ancora ne dobbiamo mangiare di che l'ambiente sta signorina la non abbiamo senza aspetta mark sostanzialmente che ho abbassato la grafica ma ho scritto si acciato applica ed è rimasto tutto fermo quindi non so bene cosa sta succedendo grazie saluto veloce come dice solo per condividere la studiata per questa maledetta si tratta buona studiata eccomi noi dobbiamo andare lì dritti no questo posto è terrificante ragazzi intanto mi fico ah non è dove c'è il bug sono appena arrivato solo io sento l'audio che cambia volume tanto se in temi del gioco può essere perché quello di untero tipo mai stabile l'audio è della live strano io sento una brutta vecchia sentire brutta vecchia che schiopo l'ucciso ha fatto uno scoppio era la pistola con la grossa più o meno il ragno non c'è effettivamente ragno andare a nord direi che sta fondando fuori dalla mappa apra signore apra ma questo non volevo farlo non volevo farlo aiuto ho volto tutta la vita cori 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 intanto lui non può saltare di volte è proprio bloccato corvo ma ciò ne hanno mai ant si devono farci la mappa no pensa che credevo di averlo fatto io ma non sei non eri tu quello che era davanti a me quindi non è possibile dobbiamo andare ma che cazzo di spavento non è morto ma che bastasso ho coltellato contro a me no ho potuto bene stiamo giocando da dieci giorni a Dante e siamo tutti una merda madonna eh ma tra l'altro oggi ho giocato pure col pad quindi sono proprio doppiamente stupido di qua ragazzi di qua o volete andare a destra no di qua non è di qua ti lo vedo là mi sembrano abbastanza uguali come distanza ma perché da di là forse è l'altro Marco quello che hai tu e occhio no no beh no più o meno sì io devo fare qualche kill col veterly col vector no il vector non era periodo diciamo hai sparato sì sì ho colpito io per farmare un po' ma non so neanche se lo farm effettivamente così ti trorebbe dire cosa devi fare ma qua non lo dice in game eh no delle missioni non mi ricordo eh no non l'ho letta è brutale grazie brutal grazie per l'interno grazie brutal quel cazzo è me eh dovrebbe essere un po' fuori no la vecia sento la vecia paradi nel buco è lì di nato non la vedo ok non la vedo porta pensavo di prenderla al giallo ok qua l'indizio ma che schifoso è scomparso allora io l'abbiamo abbiamo visto della quinta stagione di musica non è un'altra tra l'altro hanno detto che non volevano per davvero rilasciarla data è stato un errore mi sembra nord nord ovest nord nord ovest esatto sono contento come l'hanno detto però mi sembra che non volevano farlo per davvero ciao Roby ciao Roby ti voglio molto bene la mia amichetta ma stai parlando in game Marco si l'avevo tabato per sbaglio ho scritto www nella chat la stavo per inviare cazzo c'è gente dietro Marco aia gente gente per sole no c'è un piccolo disgraziato che l'ho distrutto proprio distrutto i mille pezzi occhio che c'è il tetacolone qua io direi che adesso basta con il coltello per il mostro della palude su un thing di sempre non sa che segui me non mi fanno la cacca sta seguendo me mi sa che sono dei canidi eh che seguono delle persone occhio ragazzi ah no li è già no hanno tirato qualcuno là sopra non è il yezar no no sono sopra sono sport davanti a noi eccolo eccolo ho colpito no io no assolutamente l'ho preso sto facendo vomitare lasciate i cani e non li ci dete c'è altra gente sicura ok non sto azzeccando un proiettile ma ci riprenderemo nel corso della live ve lo prometto lì c'è un cane spedio occhio e non la cretare non so se vanno shottato dietro a martin ezzaro attento da dove loro ci avranno anche l'equipaggiamento che non abbiamo più un yezar abbastanza bestia ah eccolo sta andando a tira sull'altro provasse no scappò ah c'è un altro qua ho capito ho mancato ho colpito ho preso l'hai tirato giù c'è l'altro c'è l'altro non so dove coprirmi di qua lo so dove sta sparando questo qua l'ho ucciso si dava le spalle li abbiamo uccisi tutti no forse c'è ancora uno vivo forse c'è ancora uno vivo mi rubo subito l'arma in caso sono due morti devo aiutare il corpo non lo so corvo aspetta un attimo eh al massimo mi tirano giù tanto c'ho già due tacche di vita perché hanno visto scappare di qua ma non sono sicuro si tanto nel molotov devo usare per sbloccare le cose ragazzi per cui prendo lo springfield dai prendo lo springfield non è il massimo non lo prendo lo springfield e c'è il nagant vabbè teniamo il nagant forse è meglio il nagant l'ho ucciso non mi ricordo ragazzi qual era meglio dei due vabbè andiamo via in una famosa canzone andiamo via anzi mi sono una cosa ragazzi aspetta forse visto gente ah no è morto no aspetta è qui è qui è qui ragazzi qua ragazzi davanti a me da noi due altre gente allora ti aiuto porca miseria tira devo andare via colpito ah lasciato la molotov non sono in tre non sono in due eh sono un team nuovo ragazzi uno l'ho ucciso ti trattare uno colpito l'altro senza mirini ovviamente ahia ma ha preso anche lui però non l'ho preso non mi ha visto mi sta ignorando allora forse l'ho colpito ma mi ha buttato giù colpito ho mancato colpito no mi ha buttato da solo eh dentro fa bene destra ma c'è anche dietro ho preso ma quanto resiste quello non è possibile ma io forse forse io non l'ho colpito perché prima di colpire di partire di partire il colpo sono volato giù mi sa era bravissimo ma veramente fulminato era un bel fight però comunque non abbiamo le armi giuste l'altra squadra l'abbiamo fatta fuori tutta perché c'era un altro cadavere l'ho visto poi l'altra squadra era morta tutta vabbè hanno stati bravi siamo stati bravi nel primo fight poi nel secondo eravamo un attimo io ne ho ucciso uno sicuro e l'altro l'ho colpito no ne ho uccisi due forse nel secondo fight uno nel primo quindi comunque ne abbiamo ucciso un po' non è andato male poi ovviamente erano tutti contro di noi quindi amici voi invece questa sera cosa fate che caldo che ti metto scusa ho veramente caldo oggi fa caldo oggi fa caldo anche per persone normali pensate io come sto pensate io come sto dal lavoro stavo abbastanza morendo devo iniziare ad accedere al fornizionatore oggi è caldo per persone normali io sto è sempre caldissimo ma lo so caldo fa caldo cioè 30 gradi io poi lavoro al lavoro lavoro al forno di tempra fa caldo non mi interessa questo mi prendo uno free devi sapere quanti ne abbiamo uccisi vediamo un po' schifo questa non la voglio ne abbiamo uccisi 4 in tutto cacciatori uccisi 4 beh 3 più 1 allora reclutiamo che schifo aggiorniamo uso il caldo arrival però una doppietta abbiamo la bomba di fuoco l'equipo c'è lo springfield col mirino quello gratis e c'è anche l'antidoto la bomba avvelenata aggiungiamo il kit e il pugnaloso io ho la palestra invece amici però voglio provarci la siringona e posso usare la dinamite o l'incendiaria io ho preso la bomba a scudo ma perché la bomba a fuoco liquido perché mi sa serve e allora in teoria incendia le pozze d'acqua infiammabili fa vedere se liquido infiammabile il contenitore di vetro brucia sulla superficie dell'acqua le sfere interne in acciaio la fanno scoppiare all'impatto quindi non lo so può essere usato io la prendo perché magari sblocco altro semplicemente domandina ma la maestra sciotta fa veramente tanto male delle volte non butta giù però però spesso spesso mi è capitato posso prendere la bomba smorzante grazie toraplex grazie toraplex grazie per i settimane finisce a breve giusto perché già speriamo la bomba smorzante rilascia un gas che spegne le fiamme nel suo raggio d'azione oltre a prevenire nuovi incendi e induce una forte tosse ah si così li senti magari anche può servire se li prendi io purtroppo ragazzi non odiatemi ma guardate vado su giù nella chat e zoomo e dezoomo sul personaggio io non ce la faccio a vivere d'estate sto veramente male mi spiace vorresti iniziare a pensare di prendere connessione ma se vado via poi se sono rilassito no insis grazie mille vabbè puoi prendere quelli portatili che costano 400 euro comunque costano il culo e fanno un casicecio avevo in mansarda dei miei volevo usarlo per dormire non potevi perché sembrava che ci fosse un tir che stesse parcheggiando in casa devi usare un'oretta e poi tieni al fresco però sai cos'è almeno ti può aiutare pochino almeno lo tieni magari prima della live così anche se lo spegni durante la live comunque la stanza è fresca per un po' almeno per la live però veramente è un costo non indirizzato esistono un bestiaire o una cosa del genere nel gioco sì proprio nel gioco c'è tutto un libro che ti spiega tutta la lore del gioco è abbastanza anche bella ampia non l'ho mai letto però è tanta roba veramente tanta tanta roba c'è scritto Marco pensa che sarà sempre peggio con il caldo andando avanti con gli anni vado in Alaska ma infatti mi ha messo i condizionatori l'anno scorso e basta è una bella spesa però fai una volta a casa mia ad esempio andava bene che ce n'era già uno in camera loro condizionatore sì alla fine però hanno dovuto comprarne un altro perché quello in camera loro non riuscivano a usarlo perché di notte l'aria addosso gli dava fastidio noi abbiamo dovuto mettere tre in casa no ne abbiamo preso un altro abbiamo messo in salotto ma spendi un sacco a mettere e dal salotto prendeva tutto tranne camera mia che era pieno di sopra ovviamente però tutto il resto della casa la rinfrescava no io sto veramente male io sono quello che dovrei farlo più di tutti perché è veramente un prezzo incredibile e non è neanche casa mia pensarne uno quelli portatili e accenderli prima della live così poi durante la live almeno sei a posto tanto il fresco per un paio d'ore te lo tiene la vecchia schifosa cosa ho fatto aspetta che mi drogo no no fresco se tieni le finestre chiuse tutto quanto dovrebbe tenere tu lo accendi prima della live poi lo spegni durante la live ma se tieni tutto chiuso il fresco rimane in teoria dovrebbe per almeno la durata della live poi dopo lo riaccendi in casa siamo qua dentro la casa dov'è potresti pensarci non costano neanche così tanto è 300 secondo me li spendi tu vabbè però giora grazie mille grazie mille faccio un piccolo pippo vuoi vedere che c'è il vermone dietro sta arrivando quello di vostro Marco non può entrare qua è bloccato nella porta non sa cosa far ma come si sale ok vado io vado io ragazzi ma c'è quell'altro barbone un po' di pistola non gli fa niente fantasticoso compri quello piccolino della media shopping sono me di kit se ti serve io non ho perso vita beh hai scelto tu ma che hai preso tu l'indizio si fa ragno e dobbiamo andare a quanto lontano però tutto a ovest non lo facciamo allora c'è uno qua vicino vedete qua e andiamo a fare l'altro vabbè ti è data bene che cazzo mi sono incastrato è andata a me mettere il coltello in mano perché no non si farà sguagliato perché te volo andare effettivamente è lontanissimo ho comprato prima il kit medico del coltello un e se il coltello ce lo sono 5 ah giusto aspettate un attimo cosa devo usare no il ventilatore della Dyson ragazzi la Dyson costa un casino non lo prenderò mai minchia la Dyson costa veramente tanto poi sono ottimi per carità di Dio ma certo ma tutti probabilmente li vale ogni centesimo ma non non posso fare quella spesa perché con quella spesa lì ti fai mettere veramente un condizionatore è veramente anche se sono in affitto lo sposto sparano e dritti a 165 più o meno bussa chi sarà mai andiamo a vedere ma mi fido eh Kaiser Emanuele grazie grazie Emanuele grazie Emanuele per il primo mezzo ben arrivato ben arrivato mi raccomando tutti noi sub e trovate nel gruppo sub di Tele ma mi raccomando e ricordatevi mercoledì la live per il sud mercoledì l'assassino e siamo qua a sinistra sempre dovevamo andare no? dobbiamo andare a sud a sud si sono una mare a sinistra va bene è un divio quelli col caschetto è un vero peccato vi ho scoperto solo poco tempo fa ma ora sono qui ringrazio sul mercato però abbiamo dovuto scoprire questo mi scoprile grazie mille Emanuele ben arrivato grazie 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 che tu ti sia trovato bene guarda venga pure quando vuole certo faccia questa cosa casa sua venghino signore ben arrivato e signori amici vi ricordiamo che c'è anche il gruppo discord e il gruppo telegram se siete sub il discord ci potete entrare anche se non siete sub comunque esatto telegram invece solo ovviamente comportatevi bene che i nostri mod hanno sempre le orecchie alzate e in caso c'è anche un po svento ragazzo ma hanno già esegra puzza eh sì laviamola poi di lato e dice ava come ava che puzza no direi che quando ci si passa qua sicuramente bisogna andare io sto andando verso su dove stavo andando perso il segno ragazzi noi li ha 240 e 40 albenda rettate ma era qua ma sono stupide qua sopra lì sì sì era qua non avevo perso il segno ma perché l'ho superato vai tu voglia ti seguo ah che fatica sta succedendo quello di fame ma non ho più stamina corvo come arrivo lì ok è morto quello di fuoco arrivo corvo non ho già fatto fatto grazie allora vado da lì e mori non vado non muore anche io so come ci sei arrivato la sola eccolo lì hanno sparato? sì ma non a noi però hanno sparato vicini comunque hanno sparato veramente vicini eh occhio ma non ho capito in che direzione qua abbiamo la 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 sud ovest vabbè andiamo quanto qua non ci interessa andiamo giù allora tor e dotto jones tor e dotto jones però dobbiamo andare a sud ovest no non vi non preoccupatevi se non si sta guardando su bolli perché tanto sarà disponibile nei past per tre mesi esatto che si è tornato a sud c'è la possibilità di guardare a lì per i sub grazie mille queer e anche e anche burzio grazie mille a burzio no la lì per i sub sarà disponibile per due mesi qua nei past esatto mi raccomando no lo schifo la brutta schifosa gli ho sparato ma non è servito a niente ho uccisa bene dai siamo arrivati bene un saluto salve rivederla tante care cose posso anche chiudere tanto non entra luce quindi degna mecena occhio era la cassa delle posizioni già aperta sono già passati di qua e andiamo al boss sono dentro magari ma guarda guarda la mappa ma c'è un'aereo boss uno di fianco all'altro ma è successo non è mai capitato per andare a ovestissimo che palle ragazzi andiamo dobbiamo scendere da roba warrior c'è tutti quelli che arriva che figura perso tutta la vita per farla cagata perché andiamo a ovest problemi di ping mi dice poi avvisatemi se la live tutto a posto eccetera che in caso perché si sta allontanando così tanto cosa io sono fermo allora è marco sta andando puramente a caso no stavo andando a ovest e stai andando a nord com'è e si no e scusa se è ovest di qua e tu stai andando a quattro posto no scusa mi stavo andando giusto gli ezzar no 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 ho circunnavigato verso nord perché c'era l'acqua ma stavo andando verso ovest cazzo ci sono i cazzi della palude eh troppi troppi stavo andando verso i cani perché stavo circunnavigando prima il cane c'è io passi qua ma ma va a fanculo si si siamo in un peggio lo sappiamo si no perché adesso ci fanno aia dove sei turni in on page ma perché siamo così divisi dove io vi aspetto ragazzi venite qua stanno buttando fuoco cose non ho capito qua dove però eh sei dei due fai un salto ecco ok io li sento sparare qui eh va iniziato ad andare io sto arrivando andiamo a vedere di sento degli schiopi incredibili qualche pausa qualche d'uno gli altri quelli che hanno fatto ragno sono ancora no a me ci spacca la faccia questi ci aspettano e sento la vecchia ma vado via si vado 4 4 cacchio cacchio le lampi sono le taglie già prese si paura ragazzi andiamo no ho raccoltato anche l'altra taglia ma non ho fatto anche no l'altra è ancora da fare cosa volete fare andare a tomba usciranno da nord mi sa non riusciamo a incrociarli no ma andiamo a fare l'altro boss andiamo a fare l'altro boss andiamo a fare l'altro dai andiamo dobbiamo andare a sud sud ovest eh sì 210 su dove sì appunto ce l'ho schifio ce l'ho schifio ragazzi cazzo io muoio eh quanta lì che lavoro terrificante io non so che giro devo fare eh mi sa che l'acqua te la devi fare eh 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 non mi hanno preso mi sono allevato non abbiamo mirini non abbiamo nulla saluto a maria siamo attenzione quello grosso eh vedo le sangue in subito proviamo a entrare qua hai camminato in testa boss è rosso boss è rosso c'è gente dentro sì si immaginava sì ma io quasi quasi un incendiaria così mi aspetterei rinforzante gliela tirerei eh capire dove sono ah ti sei annunciato quindi Mark la schifosa vecchia ti ho sparato io pensavo fosse uno invece era un zombie questo che spavento un altro zombie grazie David nuova sub grazie l'ho preso dov'è ah di là Marco ragazzi aiuto no mi hanno shottato cioè mi hanno shottato no mi hanno fatto male però ho bisogno di aiuto e anche noi siamo impegnati noi qua quanti sono loro uno è qua sotto io l'ho preso con la balestra ho detto una granata si me la tira a me probabilmente provo a prenderlo alle spalle vediamo l'ho preso ancora con la balestra non li ho shottati ovviamente e hanno preso la taglia ah no sono scappati gli altri non li ho uccisi purtroppo con la balestra è andato via ma puttaneva c'è la vecchia sotto ma mi stava aspettando porca troia mi stava aspettando ragazzi dov'è è dietro l'angolo dove sono morto mi stava proprio aspettando e io gli ho preso cioè l'ho già preso due volte con la balestra la prima volta non era lui però mi sa provate ad andarmi a tirar su ragazzi sto arrivando però occhio perché o ce la fai da dietro le casse o evita come si fa a cambiare l'uso sento corvo era proprio qua davanti che mi aspettava o tira una molotov qualcosa vedo nessuno qua si l'ho preso bravo cazzo quello devo ricaricare eh devi ricaricare un paio d'ora adesso mi è già l'occhio no ti sei messo ah provate a tirarmi su ma questa parvo eh c'è giù la vecchia se dovete tirarmi su fattolo adesso che avete il diversivo mi stanno uccidendo sti cazzi di cose ok io non ho più neanche come curarmi ragazzi ho finito le cure ho finito comunque grazie David grazie David per la sub prima non venire qua corvo che ce la dà anche a noi se no e abbiamo visto che c'è il vip anche dopo ti metto ma dov'è beh mi sa che oh è sopra sul tetto sono male sono dentro ma 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 cazzo sono io sono dove mi hanno sparato prima io sono dentro proprio mi hanno sparato arrivo mi tirano una granata da fuori eh eccola lì l'incendiaria come da fuori sono fuori loro ti me l'hanno tirata sì li ho sentiti fuori io devo andare sotto io eh da dove ma a sinistra non lo so questo cosa vuol dire è da niente mi hanno sciottato mi sa che è notato quando andò a fuoco tra l'altro eccolo la minchia come fanno tutti a one shotare in questa maniera cioè sono tipo pazzeschi no vabbè non ero messo bene eh l'avevo anche visto solo che sto ghibli dei poveri scusa non mi ho ucciso che palla aria di montagna cosa vuol dire eh le scoregge forse la cacca di vacca può essere che bella frase con quanto assonanza ma anche mi sa che non deve più usare il pad per un po' beh non ho fatto niente cosa ho fatto di ma che non si ha più giocare con la tastiera ma non ho fatto nulla di anzi due balestrate l'ho preso tutte due volte la vecchia non moriva ma perché non moriva non è che non la stavo prendendo cioè diceva che la missavo ma era lì non so io mi pre no quello silenziato non voglio più prendo il vetterli piuttosto grazie 81 mi fa piacere grazie credo lo facciano per pigrizia cioè non lo facciano per pigrizia sì con la balestra l'ho preso due volte su due cioè e che non è morto semplicemente penso di togli forse toglie tipo tre quarti di vita la balestra quindi ogni tanto shot cioè se ha gli manca anche solo un pochettino lo butti giù no iniziali antiroto debole e shplugat allora allora ho il reclutino col tira pugni sto giro vendo la bomba smorzante io recluto questo lo springfield compatto che cazzo anzi dai vista che probabilmente l'ultima faccio cacciatore leggendario no io ho preso comunque quello pippone lo springfield è un po' ma no no sì sì no ma non credo neanche fosse la stessa persona eh Matte perché il primo che ho colpito non aveva la ghillie suit aveva una aveva una tipo una camicia bianca una roba diversa dopo la seconda volta ho preso quello con la ghillie suit quindi non non gli ho fatto un cacchio ho fatto tempo a curarsi a fare quello che volevo ah grazie morbidone perdonami che me l'avevi scritto anche prima in realtà t'avevo anche letto solo che non balestra con veleno quindi mi serve da prendere eh ma non ce l'ho ancora la balestrina aiuto non ce l'ho ancora la balestrina quindi come per la balestrina sono le mine concertina terrestri mi sa che è andata la posizione ah l'ho comprata è che non posso usarla insieme a questo per quello slash vip ironsman facciamo così ok attrava scritto non scrivo molto non mi riesco a fare una vera sub ma mi si segue sempre grazie mille chi è che l'aveva scritto eh iron che ha fatto il vip ah grazie mille quindi nonostante non sei sub sei riuscito ad arrivare appunto a avere i punti ah beh vuol dire che ci segue tanto grazie mille grazie mille eh dovete eh ok adesso sono come si chiama come si chiama quello di limitless il doppiatore di rocket raccoon me lo dimentico ogni volta me lo dimentico Bradley Cooper ogni volta ma ve lo richiederò altre dieci volte nel corso dell'area me lo dimentico ogni volta come si chiama però sono Bradley Cooper è un po' più bello Bradley Cooper ma io come mi chiamai Louise Zuh Kronfeld e sei un tedesco io sono Treimen Brei l'ho letto comunque tedesco e poi Liezer il montanaro si chiama così proprio il montanaro e Bradley Toupet e no Logan era quello di prima Ultimate forse sei arrivato adesso quello di prima ero proprio Hugh Jackman che figo quest'uomo alcune armi come la Dolce 96 l'ho letto anche io di Undertaker ricaricare anche la sua i tacchi è diventato ma pare che praticamente ha annunciato il suo ritiro alla fine hanno fatto una serie tipo della Sdance l'ha chiamato The Last Ride e al termine di questa di questo documentario ha annunciato il suo ritiro comunque dai ha fatto i suoi quanti o mai mi sarei ritirato anche 5-6 anni fa probabilmente però io quindi non valgo niente cazzo ma Groot è doppiato da Vin Diesel sì no però sì mi ha fatto ridere perché quando c'era Baby Groot l'han comunque fatto doppiare da Vin Diesel l'ha picciato hai preso due diversi con la balestra ti ha ucciso uno che ti ha ucciso l'unico uno che non hai colpito ma quando nell'ultimo no la voglia sì 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 ho letto malissimo ma probabilmente era arrivata anche un'altra squadra che era l'ultimo vabbè a parte il fatto che lì abbiamo anche sbagliato perché c'erano i loro due insieme che erano solo dall'altra parte non era il massimo come idea ma c'è un nemico sto io sono spruzzo coltira pugni sto giro poi ti fammi usare spedetto l'antivalenus questo io ancora mi scioppa brutto rumore quando ti fa di singolo è proprio ah segui sono uno schifoso non me ne frega niente c'è anche una sandwich super sopra di me che mi ciuccerà arrivederla andiamo via sono pieno di sangria andare a est 105 c'è un'altra vecchia pure tanto sono pieno di veleno ce ne voleva un'altra esatto amici bravo vecchio che è l'uomo dei giveaway c'è il giveaway di stan gaming l'abbiamo detto anche prima mi raccomando non dimenticato non vi costa nulla no potete vincere un gioco quindi insomma due minuti del vostro tempo l'ha vinto darkmark il mese scorso quindi insomma io lo faccio sempre ho mai vinto un cazzo non ci provo eh beh perché siete in tanti però esatto anche darkmark diceva non vincerò mai e beh ce l'ha vinto e beh ce l'ha vinto sono tanti insulti e odio da parte nostra ovviamente però meritatissimi cioè nel senso se li prende volentieri in cambio di un gioco un po' di odio e disprezzo per fortuna ha vinto lo dirsi di poco ma non ci ha speso soldi dissi io neanche l'ho preso prenderò magari più avanti adesso ma se non puntate al boss e fate punti con i mostri usciti si può fare si può fare quello che vuoi e che è un peccato serve a poco questo deve essere per farti salire un po' di livello il cacciatore ma e ma te ne frega anche poco tanto io dopo due lo vendo quindi per arrivarci alle due bello sì ebbene poi sì si facciano i fatti suoi e lei oppure lei nervogne per pagare sotto sporco non c'è nessuno tutto pieno di catrame l'indizio era rosso e però ragazzi ah vuol dire che qualcuno è passato che sangue in realtà eccolo lì dritti dritti che paura dove andare lì dove? dove ho fingato lì ah sì è qua vicino io magari scendo ahia ho i pugni nelle mani avete visto sono un terribile che siete voi non è possibile trasportare altro va bene basta zitto lei è una vergogna lei eh ti è spostato me l'ha schivato io ho tirato una freccina nella schiena me la riprendo aspetta mi scusi? me l'annusi? questo era rosso quelle cose che si dicevano alle medie per fare lo sgaggio dov'è l'ho rendita? senta sa di menta ah è qua nel treno lo afferro? è rosso è dov'è scusate? si è rosso no abbiamo ah era rosso? perché intorno era rosso quando l'ho fatto poi non so ok e dietro di noi si però sparano dalla parte opposta rispetto al boss dobbiamo andare verso 105 no? stanno sparando abbiamo visto che Mixer chiude con la gioia di ninja dopo che hanno pagato Fiorflow di quattro occhio io non posso usare c'è anche la vecchia sopra dove va? ragazzi attenti ma porca troia non ce l'ha con me eh si era davanti a te c'era davanti a con noi era porvo devi aiutarmi eh dai ma io c'ho la la baionetta lo scopo quella è una vecchia schifosa ho anche perso vita presa ok è morta state attenti che state facendo sto concerto loro non sono morto io ho perso due tacche tra l'altro di vita senti io non mi mi curo per adesso io si un medicito lo uso tanto in un coro ora basta aiuto ragazzi arrivo non ho più stamina sto anche perdendo vita stiamo in coppini vai però anche basta di questi quali fuoco quali fuoco sono un po' tra l'altro la davanti se vuoi la voglio sapere non importa andiamo una musica casante pop pop destination calabria vabbè da bravo truzzo anche te corvo senta me la denta mi mancava è un balestrino amico se no anche bendo sopra il booster no quella l'ha usata anche le cose di info speed madonna da quando lo street animi è entrata in testa tantissimo che imbarazzo l'ho ascoltata quattro volte di seguito che imbarazzo corvo due volte c'è una vecchia la sopra porca tron veramente si può far successo con qualsiasi caccata ormai veramente ma una bella base quella canzone sì sì eh c'è gente dove è il boss rosso cazzo noi ci siamo annunciati allegramente sparando guardi che sciopi che schifo ragazzi no è bianco è diventato quindi sono qua fuori che fai? suona una fisiarmonica? sì wow e noi come entriamo? non entriamo non di qua ah non volete entrare? ma dove l'è? scusami eh non lo so sbagliato tutto a sinistra eh perché davanti non lo faceva mettere ho sentito un gatto farano ti ha zarsito quelli stai sparando? no no sono loro c'è uno sopra il tetto che mi scusami cioè io sopra il tetto della casa di fianco vedo il mozzo flash ma non vedo il tipo sono dentro edificio è? dove è? eh di là no ragazzi io con le armi secondarie lo vedo sotto è della veranda scelta ah no era un cane no vengo da voi ragazzi che io non ho armi da lontano occhio al cosa sono più a destra possibile allora non usate mai le scalettine ma amici ma io non ho capito come ce la vogliamo giustare perché ma il boss adesso è proponibile e no è arrivino sono sul tetto su una specie di campanile che scioponi è riuscito a venire qua dove sono io è ottimo eh eh ma deve vedere armi che hanno da lì non vanno bene uno è stato sparato io ho due armi secondarie di azzaro non so quanto mi conviene venire no 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 aspetta vengo su non ho sentito che è caduto eh non usare una pistola ah io sono sotto di te di azzaro eh se riesce venire su non so come quindi starò qui nella porta segui la porta entra nella porta non so se la vedi la porta io rimango fuori che faccio? qua c'è la finestra e qua c'è la porta segui il corridoio no di qua si scende no dall'altra l'altra porta qual è l'altra porta? arriva quello grosso ragazzi non è una porta sulla destra lì arriva quello grosso ragazzi sì credo non mi abbia sentito me lo porto via se riesco no ma non fare il boss non fare il boss me lo son portato via qua c'è la visuale ok direi che io non salgo con voi ragazzi per un momento prendo se poi il booster ma che vomito colvo che delici fuori ah c'è una trappola dove? beh da pensare volendo ho guardato un'altra volta sto sparando un sacco ma non vedo di là credo provo a sacrificarmi per la patria ragazzi ma aspetta qui perché fretta c'è io come arrivo da voi ragazzi? che fretta c'è la maledetta primavera non c'è bisogno però stai qua in zona eh lo vedo no sono in due colpito ma bravissimo colpito no ostia me l'ho manca è completamente inutile queste armi io non li vedo più adesso ah c'è un altro qua di qua ragazzi e dove ho pingato eh ma era non c'era nulla dove ho pingato ah ho scioltato con la pistola a quale distanza scusate ragazzi cazzo dove ho ricaricare non ho capito l'ezzaro dove hai pingato tu ero una scala sono nascosti sotto la casetta praticamente mi sento eh per carità ma come mi ha preso l'ho preso ma mi ha preso di più lui non lì si è ah tirano in su da attraverso la palestra fuori no non mi dà fatto bene sta ahia ma dove cazzo sono fatto bene a non salire io ragazzi ho messo un due squadre sai ma dove so ma non lo vedo non si vedeva ma impossibile sono due squadre secondo me ve lo dico io e da solo ti guido io vai dritto sali finestra dentro la porta ok lì ci dovrei essere io ma stai giù a occhi al pacchetto beccano subito che caspita dalla finestra lì e mi ha sparato subito ah almeno lei ci tirano su io scendo si stanno sparando anche dall'altra parte si stanno colpene vado via corvo non lo fare corvo muori sto guardando e muore c'è guardi mori secondo me ha bisogno non ci serve niente adesso per il momento posto così grazie per l'aperta oh ma loro faranno devono entrare per fare il boss l'ho preso maria salvador l'ho tirato giù ne ho buttato giù e mi hanno buttato giù non so se mi sa che tra poco morirò definitivamente corvo perché provi a ingaggiare non ingaggiare ma uno l'ho tirato giù ne ho capito ma poi se dobbiamo fare stati riterà aspettiamoli vabbè intanto buono perché gli hai tolto magari dei medikit anche cose anche lui a me però mi ha tolto anche l'attacca di vita ma io aspetterei siamo così comodi ragazzi sempre lì il boss il boss mi ci fa le sue passeggiate no 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 forse no forse non è il caso eh ero un bazzucca ragazzi non esisteva in questo periodo non esplodere io un barino appropriato e dai senso i passi i miei bici sono vari cantina e vera entrambe le cose sono sia botte sia gente vera allora i botte sono zombie europeo del genere cacciatori invece quelli che ti sparano le soggette vera esattamente è stato fatto un errore torno qui prego prego venga che posto eh non è male come già questo così ho tirato una cannosta c'era una cosa che deve interagire partita una campana apro la finestra buonasera amici la vicenda proprio a tirarmi su eh proprio no c'era uno là sotto eh mi ha sottato oh perca troia ma se non è che l'ho già vista questa cosa mi controllo è perché nezza pensavo non ci fosse nessuno invece c'è ancora qualcuno sotto la casella è sempre lo stesso mi ha addormentato lì sì sì ma sì dai riproviamoci dobbiamo avere l'ultima sacca di vita riproviamoci un'altra volta sono due cazzo no se passa questa mappa la parola non esiste ancora ragazzi io voglio è che è una zona che non siamo mai stati effettivamente che loro non entrano quindi siamo qua forever and ever no mi sono buttato io dalla scala occhio che qua eh era qui eh cioè spalla da quella parte lì ma non so perca troia che schiopettata forbo stai buono adesso no no sono sceso così ma non entrano scusami sono due mappe si però una è quella per i giocatori sì per i giocatori sì come hai cazzo risparato mi fai jumpscare ma sei sotto di me era uno zombie ma ho fatto la linguaccia mi sono innervosito scusami sono in tensione guarda maledetto pippo sto giù eh bello tranquillo qualcuno è stato colpito eh tra di loro mi sa si stanno sparando si uccidono tutti e rimaniamo solo noi io aspetto oh buonasera no no niente faccia faccia colvo non farlo venire qua eh guarda che me lo desisco ho aperto la porta l'ho richiusa subito ma chi era questo? questo qua è un giocatore? è questo è un giocatore sì è lì è quello? no quello è un zombie quell'altro me lo tolgato bello il giocatore peppe peppe che botta colvo adesso devi fare quello che ho fatto io fino adesso con te per il favore se riesci eh so non lagare non ti permettere ah che fai colvo? eh stavo cercando di capire se era... stavo guardando l'angolino colvo no colvo non me non stai facendo quello che hai detto stai guardando intensamente la cornicia di un quadro no mi è di nuovo crashato no perché perché non mi sta facendo interagire con le porte ma che quando una granata o da fondi merda hanno mancato vediamo se sopravviverà questo correndo in giro e controlliamo bene magari può essere che cade almeno lo avvisiamo va via prima del che fa e ho abbandonato la missione da purtroppo amici è andata così che il lavoro di prezzo che abbiamo comunque il nuovo motto dell'anno dopo fatto il verde vodafone merda perché non è possibile effettivamente quel problema persiste persino la situazione a chi possiamo rai dare amici la robbie non è già la robbie che è successo valutiamo vodafone un cazzo vector un cazzo conferma che c'è la la job in live allora andiamo subito dalla robbie correte dalla robbie gli dite robbie e vediamo cosa vi risponde ragazzi va bene ditegli così mi raccomando non so cos'era non c'era niente però noi vi ringraziamo per averci seguito vi raccomando domani mattina c'è sea of tips pomeriggio c'è il marchetti con house flipper e la sera la live dalle 20 alle 21 torniamo al nostro orario con fifa buonasera amici ciao grazie a tutti ciao